L'attività tuttavia di prevenzione e contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose non finisce domenica. Continuerà e continuerà con capacità investigativa, continuerà con risultati che si aggiungeranno ai risultati già ottenuti. L'obiettivo che noi ci siamo dati è di liberare Ostia e il suo litorale dai condizionamenti mafiosi. Di liberare Ostia e il suo litorale dai condizionamenti della criminalità organizzata e comune. Posso garantirvi che su questo ci sarà un impegno costante e senza pausa da parte di tutte le istituzioni del nostro Paese. Lo faremo in piena cooperazione con le rappresentanze politiche istituzionali, come è giusto che si faccia. Lo faremo con l'idea che raggiungendo questo obiettivo noi facciamo uno straordinario servizio, diamo uno straordinario aiuto a questa città. Grazie a tutti.